Cari fratelli e sorelle, a termine di questa celebrazione desidero salutare tutti voi che siete venuti a rendere omaggio ai nuovi santi, in modo particolare alle delegazioni ufficiali dell'Italia, della Colombia e del Mexico. I martiri di Otranto aiutino il caro popolo italiano, a guardare con speranza al futuro, confidando nella vicinanza di Dio che mai abandona anche nei momenti difficili. Che per intercessione di madre Laura Montoya, il Signore conceda un nuovo impulso misionero e evangelizzatore alla Iglesia e che, inspirados nel esempio di concordia e riconciliazione di questa nuova santa, i amati i figli di Colombia continuano lavorando per la pazza e il justo desarrollo di suo Pato. In mano di Santa Guadalupe García Zavala, ponemos a todos los pobres, los enfermos y a cuantos los assisten e incomendamos a su intercessione a la noble nación mexicana, para que desterrada toda violencia e inseguridad avance cada per il camino della solidaridad y la convivencia fraterna. Sono lieto poi di ricordare che ieri a Roma che è stato proclamato, pregadato, il sacerdote Luigi Novarese, fondatore del Centro Voluntari della Sofferenza e degli silenziosi opilai della Croce. Mi unisco al rendimento di grazie per questo prete esemplare che ha saputo rinnovare la pastorale dei malati, rendendoli i soggetti attivi nella Chiesa. Saluto i partecipanti alla Marcia per la Vita, che ha avuto l'oro questa mattina a Roma, invito a mantenere viva l'attenzione di tutti sul tema così importante del rispetto per la vita umana sin dal momento del suo concepimento. A questo proposito mi piace ricordare anche la raccolta di firme che oggi si tiene molti parocchi italiani al fine di sostenere l'iniziativa europea uno di noi per garantire protezione giuridica all'embrione tutelando ogni essere umano sin dal primo istante della sua esistenza. Un momento speciale per coloro che hanno a cuore la distezza della sacralità della vita umana sarà la giornata dell'Evangelio Uniti che avrà luogo qui in Vaticano nel contesto dell'anno della fede il 15 e 16 giugno prossimo. Saluto con affetto tutti i gruppi parocchiali, le famiglie, le scuole, i giovani, i presenti. Con amore filiale ci rivolgiamo ora alla versione di Maria, madre e modele di tutti cristiani. Papa ha parlato di giorni di vita in Rima di 15-16 di settimana e ha invitato a tutti i spaventare questo evangelio di vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.